Fiumicino sempre più nella morsa dei ladri. Gli ultimi mesi hanno fatto registrare un forte aumento del fenomeno. A Parco Leonardo continuano ad essere prese di mira le auto nei parcheggi del centro commerciale. A Fregene i topi d'appartamento stanno seminando il terrore tra le villette dove si intrufolano a tutte le ore del giorno e della notte, non curanti, della presenza dei proprietari. Recentemente i ladri non hanno risparmiato neanche il cimitero di Santa Ninfa, in via delle Idrovore. Ci siamo accorti che un ragazzo ha scavalcato qui la recensione somali al cancello, entrando qui dentro, per poi buttare un sasso sulla vetrata, sulla porta, per provare ad entrare e conseguentemente con un arnese riuscito ad entrare, aprendo la porta. Per fortuna è scattato l'allarme, qui abbiamo l'allarme nella palazzina di sorveglianza ed è venuta poi l'Italpol, il controllo insieme alle forze dell'ordine. Siamo riusciti ad evitare il peggio. Hanno preso pochi spicci alle macchinette qui che abbiamo, dei snack. Effettivamente non è tanto un discorso di danno economico quanto danno morale, perché qui viene utilizzato da molte persone anche solo per ristorarsi. Sì, siamo rimasti un po' scossi, come poi tutti gli utenti, il pubblico, perché sono cose che non dovrebbero succedere. Il Comune ha lavoro per aumentare i controlli, ma richiede un supporto da parte della Prefettura. Le forze di polizia sul territorio, infatti, sono ancora molto sotto organico. Dopo l'estate entreranno in servizio due agenti della locale grazie al nuovo concorso, ma gli uomini a disposizione della Comandante Carola, nonostante il grande impegno profuso a servizio della comunità, sono troppo pochi per un territorio di oltre 200 km2 da dover coprire. Questo quadro cimitero è un po' annoso e antipatico, non è la prima volta che succede, quindi io penso che ci debba essere un'attenzione più marcata verso questa parte di territorio, perché anche su Macarese, su Aranova, su queste zone più periferiche, vediamo che negli ultimi tempi ci sono una serie di furti in maniera marcata, quindi so che le forze dell'ordine, quei pochi che sono, stanno facendo il massimo dello sforzo per poter affrontare questa problematica. Noi come amministrazione comunale stiamo affrontando proprio in questo periodo un concorso per i vigili urbani per far sì che abbiamo più risorse, più persone da poter mettere in campo, però nello stesso tempo ci aspettiamo la stessa cosa da parte della Prefettura, dei vari ministeri che mettono più persone, più uomini su questo territorio, anche in questo periodo estivo che la popolazione triplica.